Tutti quanti ragazzi, tutti, tutti quanti, tutti quanti, anche voi di lì, i vostri telefonini, prendete i telefonini, anche io, anche tu, tutti, tutti quanti, bella, un po' di più ragazzi, forse sarete 7-8 mila, ci avete 6 telefonini a testa, come tutti, tirate fuori tutti i vostri telefonini, mi manca qua, mi manca, ci sono dei buchi che non ho, proprio non posso vedere, lì, perché voi? Adesso guardate, le nostre luci, piano piano vanno giù, rimaniamo noi da soli, con voi, che ci fate questo immenso regalo, regalandoci un piccolo angolo di cielo. Piano piano così, rilassiamoci, godiamoci lo spettacolo e soprattutto cantate con noi. E' meraviglioso, ragazzi, è veramente meraviglioso. Piano piano così, ragazzi, è veramente meraviglioso. Piano piano così, ragazzi, è veramente meraviglioso. Cattiamo forte e t'amo, t'amo e t'amo. Se il messere è possibile, non credo. Se il spirito è invisibile, ti capo. S'asforma se fura, bonda e che lui, su sole, so si stentose, e formavo un mondo bellissimo. Un mondo bellissimo. Sì, mui, pro te ne, pro po' detti spensare, ca bene. Sì, mui, pro te ne, pro te ne, pro te ne, pro te ne. Sì, mui, pro te ne. Sì, mui, pro te ne, pro te ne, pro te ne, pro te ne. Sì, mui, pro te ne, pro te ne, pro te ne. Sì, mui, pro te ne, pro te ne, pro te ne, pro te ne, pro te ne. Sì, mui, pro te ne, pro te ne, pro te ne, pro te ne, pro te ne. Cioè, oggi anche io, anche io che sono, anche io che sono uno che accetta le cose come sono, tu oggi sarai scontentissimo, tutti scoordinati, cioè uno, ta 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 ta, sì, dai, ragazzi, non scherziamo. Allora, sai cosa c'è? Allora, è fantastico perché Gino se ne sarà accorto, vorrei che tutti voi foste qua perché mentre stavate cantando c'era una persona che io non so chi sia, anzi vorrei conoscere o andarci proprio a casa perché mi piacerebbe invitarlo anche un po' a casa mia che faceva Ah, sicuro, che ti, eh, ma chi è che cantava così? No, ma che Marielli, no, chi è? Sei tu? Ma davvero, c'è un logopedista per questo ragazzo? Ah, è lui, è lui. No, allora, sapete qual è? La cosa è questa, in questo momento io sono sempre quello che rompe le scatole alla gente, perché? Perché? Perché se noi siamo qua e voi siete lì è perché voi siete stonati come delle campane. Ah no? Allora abbiate il coraggio di ammettere. Quanti stonati ci sono qua stasera? La verità è che dell'intonazione a noi non ce ne frega niente, non ci importa che cantiate bene o cantiate male, stonati o stonati, non ce ne importa un fico secco, l'importante è che tirate fuori il cuore. Ti va di farlo ancora? Ti assicuro più forte, solo tu d'amo, cantamo forte, d'amo e d'amo. Siete uno sballo! Ma t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo e t'amo. Gigi Kameda! Gino Marielli! Alla batteria, Marco Ocanao! Al basso, Massimo Canu! Alle tastiere, Marco Cameda! La chitarra delle chitarre, ladies and gentlemen, madame e messie, Massimo Cossu! E lui, the voice, Nicola Vitte! 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 Viva 첫 stitches! V trabalho prima �이어! Vitori! Vito! Quissà! V经 timestare! Vitori!